L'Altrove è qui. Ma quando mai ci hanno detto che l'Altrove è qui? Mai. Io, effettivamente, ho sempre sentito una frase nella mia vita con cui sono cresciuta che mi ha sempre dimostrato esattamente l'opposto, e cioè che dovevo andare a cercare qualcosa fuori, qualcosa lontano dalla mia città, lontano dalla mia famiglia, lontano da quello che amavo, cioè andare in barca a vela, andare a fare le mie nuotate. E non so se è capitato anche a voi di sentire questa frase. Qui, nella tua città o nel paese dove sei nato, non c'è posto per te. Non puoi trovare un lavoro, perché in Italia non c'è futuro. E se vuoi andare ad avere successo, devi andare altrove. Io a questa frase ci ho creduto certamente. E chiedo a voi, siete mai andati altrove? Siete andati altrove a cercare le competenze, il vostro lavoro? Non vedo le mani alzate? Strano, perché nella mia città, Genova, a questa frase se la sentono dire tutti. Tutti, veramente. Come molti di voi, anche i miei amici, i miei fratelli e anche il mio fidanzato sono andati fuori. Lui per fortuna dopo dieci anni di relazione a distanza è appena tornato e ora siamo andati a vivere assieme. Ma fra di loro, tra i miei amici, c'è qualcuno che pensa di non poter rimanere qua in Italia perché crede di non riuscire a trovare quello che ha trovato fuori. Ma io oggi sono qui per dirvi che l'altrove è qui. Sono Bianca Viola Biamonti, sono un'artista e sono un'imprenditrice. Nel mio lavoro mi occupo di promuovere il territorio attraverso gli eventi e di aiutare le persone a tirare fuori le loro capacità e a realizzare le loro idee. Sapete come lo faccio? Lo faccio così, attraverso la ceramica. La passione per la creta, che è nata quando avevo 18 anni, anzi, un po' prima, quando ero al liceo, mi ha permesso di capire che potevo modellare assolutamente come volevo la mia vita. e allora, appunto, quando ho finito il liceo e dovevo iscrivermi all'università, sono andata a capire cos'è che volevo fare. Probabilmente anche voi vi siete sentiti un po' persi e io ho avuto tre guide nel mio percorso. Un professore di scultura, uno di progettazione artistica e uno di diritto. ero certa, e avevo imparato, che l'arte non poteva essere una professione e quindi ho scelto di fare diritto. Mi sono iscritta a giurisprudenza e per dimostrarmi che ero abbastanza capace a fare le cose difficili, sono andata anche in Erasmus in Austria per farlo in tedesco, giusto per complicarmi un po' di più. Ora, dovete immaginare che un Ligure è abituato ad avere il mare al sud e le montagne al nord. In quel posto, a Innsbruck, mi trovavo completamente circondata dalle montagne. Mi sentivo persa completamente, non sapevo orientarmi ed era anche difficile per me apprezzare quell'ambiente così diverso. eppure volevo stare bene e ho trovato nella ricerca del territorio il mio modo per scoprire come stare bene ovunque io fossi. Tornata da questa esperienza, ero a Genova, mi sono laureata e ho deciso nuovamente di dovermi buttare. Ho seguito le orme di mio fratello Federico che è da dieci anni in Australia per realizzare il suo sogno di diventare l'architetto ed è riuscito proprio a farlo là. Quindi sono andata, sono andata in Australia e soprattutto una cosa che volevo fare era quello di andare a percepire cosa si provava a vivere in un ambiente, in uno stato in cui tutti dicevano che c'erano mille, mila possibilità. e devo dirvi la verità io ho una possibilità, ce l'ho avuta ed è stato per me bellissimo poter comunicare l'arte aborigine per un museo. Ho avuto la possibilità di comunicare sui social la cultura di un luogo completamente lontano da me che però mi ha permesso di comprendere che quello che volevo fare nella vita si avvicinava molto a questa esperienza. Quindi sono tornata dopo quasi un anno e a Genova ho deciso di mettere insieme queste due esperienze di voler promuovere il territorio o comunque di voler vivere il territorio e godermelo e la promozione della cultura e sono andata a fare un'altra esperienza all'estero e me ne sono andata tra la Francia, la Parigi e Venezia. Ora mi dite, Bianca, eri nelle due città più belle al mondo lì non ti sarà venuto il mugugno quella sorta di lamentela che dici sì, vabbè, no. Eppure anche lì erano bellissime queste città ve lo giuro, lo sapete benissimo ma quello che volevo fare, quello che io sento di voler fare è ricomunicare la bellezza che è nella mia città che è nella mia terra e che è questa Liguria che non è così palese magari, non è così ovvia però io la percepisco e il mio desiderio è quello di farla conoscere a chiunque. così sono tornata dal mio altrove con queste tre cose, con questi tre punti fermi e sapete quando è che sono tornata? in piena pandemia il giorno stesso in cui avevamo dichiarato che l'Italia era chiusa completamente e anche lì sono tornata nella mia città avevo voglia di vedere cosa fossi capace a fare e nonostante questo ho trovato una città chiusa e la difficoltà a fare quello che volevo fare promuovere il territorio e fare degli eventi dedicati ai giovani. Bene, io in realtà grazie all'online sono riuscita a lavorare e a lavorare per un teatro quindi abbiamo progettato tutti degli eventi che sarebbero poi realizzati una volta in buona speranza abbiamo già una buona speranza che saremmo riusciti a realizzare questi eventi in concreto appena sarebbe finita la situazione. però nel momento in cui mi sentivo persa sono andata un po' sgattaiolando un po' di nascosto senza farmi vedere troppo da nessuno nella mia stanzetta in cui avevo lasciato 80 kg di creta me l'avevo regalata per la laurea e poi l'avevo abbandonata lì perché sapevo che appena toccavo questo materiale io perdevo completamente la testa e il tempo si dilatava e per me non sarei riuscita a fare altro solo dedicandomi alla terra e allora ho capito piano piano che stavo realizzando attorno a me tutte le cose che volevo vedere e conoscere della Liguria quindi mi sono messa a fare delle sculture delle balene perché sarei voluta andare a scoprire il mare mi sono messa a disegnare i piatti con la costa Ligure e mi sono accorta presto che quello che mi interessa della Creta non era tanto l'oggetto in sé ma piano piano la Creta mi stava facendo vedere qual era la mia strada mi stava insegnando che io potevo realizzare e modificare la mia strada quando volevo senza sentirmi impantanata e obbligata a fare un percorso unico vedete quando una persona si entusiasma e ha gli occhi che brillano sarà successo anche a voi arrivano un sacco di persone attorno a te che magari anche per paura di vederti che potresti andare ovunque magari perderti cercano di confinarti o comunque prendere il tuo entusiasmo e farti vedere tutte le parti problematiche difficili e sicuramente queste persone qua ad averle accanto e vicino è difficile ti fanno soffrire magari ti fanno proprio già magari non sei proprio sicuro di quello che vuoi andare a fare lo senti o senti una motivazione grande dentro di te però alla fine dici ma farò veramente bene mi starò buttando queste persone qua in realtà servono come controllore per vedere se effettivamente abbiamo questa motivazione perché non vi preoccupate che se voi sentite nel profondo una motivazione così alta di andare a vedere cosa siete capace a fare e vi mettete con costanza a seguirlo viene da sé che passo dopo passo riuscirete a realizzare la strada che volete sapete perché il mio desiderio è quello di far provare la terra a chiunque? anzi vi chiedo a voi alzi la mano se qualcuno fra di voi ha mai provato a modellare questo materiale ok pochini vabbè qualcuno lì non vi vedo due o tre beh a me questo materiale qua piace perché alla fine mi ha fatto capire che mi ha fatto capire a me ma anche ai miei corsisti durante i miei corsi di ceramica che puoi realizzare veramente quello che vuoi cioè hai qualunque idea e non è anche se è un'idea nuova che nessuno ha mai fatto anche io ogni tanto viene qualcuno che mi dice voglio fare questa cosa qua io li guardo però il bello è che ti permette di avere una forma mentale per riuscire a trasformare tutto ciò che semplicemente con le mani con l'ascolto di noi stessi ci permette di trasformare tutto questo materiale in qualunque tipo di cosa e questo per me mi affascina molto e quello che ho scoperto che mi ha insegnato questo la creta è stata proprio di nel momento in cui che nel momento in cui ti dedichi del tempo e uno spazio per per riconnetterti con quello che sei tu con quello che senti quello che fai veramente cioè quello che voglio dire è che nel momento in cui hai questo materiale nelle mani tu vai ad avere molta più sensibilità nei confronti di quello che vivi sviluppi tantissimo il senso del tatto e la tua sensibilità proprio si alza e quindi riesci a capire subito qual è il tuo intuito dov'è che ti porta io in quel periodo lì nonostante sentissi vi dico la verità un entusiasmo per quello che facevo con la creta io avevo paurissima di buttarmi e di fare un percorso diverso rispetto a quanto avevo studiato avevo investito tantissimo anche la mia famiglia mi aveva sostenuto cioè per me avevo fatto una fatica che non potete immaginare ad arrivare a fare tutto questo percorso e il pensiero che per una passione che magari poteva essere anche finire dopo due minuti o un mese cambiare completamente prospettiva in più ho provato anche a lavorare per il pubblico ho lavorato facevo eventi culturali facevo promozione del territorio ero proprio dal punto di vista della società in un luogo o comunque in un posto di lavoro che dicevano vabbè brava fai anche delle cose fighe bello però sapete cosa succedeva io lì dentro in quei posti sentivo di non riuscire a dare un contributo di alcun tipo nonostante ero lì andavo lì ero presente mi dicevano bianca bellissima è tu idea però abbiamo sempre fatto così quindi cambia la data mettila quella di quest'anno e manda le mail io questa cosa qua non riuscivo a farla mi sentivo veramente ingabbiata e per me è stato un ritornare una via unica quella che potevo fare quella che mi rimaneva cioè di ringraziare tutti e dire io apro qualcosa di mio non so come andrà non so ancora come andrà però io apro Buonvento Buonvento è il mio laboratorio di promozione del territorio che è a Genova un centro storico e se vi capitasse mai di venire a trovarmi probabilmente vi stussecherà o comunque una delle cose che noterete di più sono tutti questi cetacei che li ho messi ovunque tra i disegni nelle sculture ho fatto delle balene che attraversano i muri e quest'animale qua vi dico la verità mi ha ispirato da sempre soprattutto nel momento in cui ne ho visto uno ho visto un capo d'olio e mi aveva stupito per due motivi per il suo comportamento innanzitutto è un animale che per poter vivere e poter navigare fare la sua strada ha bisogno di andare in quello che ha il suo altrove cioè andare semplicemente a prendere una grande boccata d'aria e poi cosa fa? Si immerge nella profondità e poi l'altro aspetto è che non te lo aspetti che ci sia un animale così grande in mezzo al mare noi in Liguria vediamo questa distesa blu meravigliosa che a qualcuno fa paura a qualcuno invece no però la cosa che colpisce e che a me ha colpito è che il momento in cui ero in barca a vela e ho trovato questo animale e ho visto questa coda ho detto ma io ho sempre fatto questa navigazione perché facevo la volontaria per una regata io ho fatto sei anni eppure non ho mai visto nessun tipo di animale così grande il fatto che si fosse palesato a me per me è stato un simbolo di bianca svegliati vivi qua fai qualcosa qua e goditi la bellezza di questo momento non si può andare ad aspettare delle occasioni perfette perché c'è bisogno di crearle non c'è un posto perfetto per noi siamo noi che possiamo creare il posto perfetto per inserirci e trovare il modo e la strada più giusta per noi ed è per questo che oggi vi ho raccontato che l'altrove è qui e il mio desiderio è proprio quello di augurarvi di trovare il vostro altrove ovunque voi siate o comunque trovare la vostra strada ovunque sia per voi dove voi state bene e questo piccola balenottera in realtà è un capodoglio ve lo voglio regalare che sia come ricordo, come ispirazione per poter trovare la vostra strada dentro di voi vi ringrazio grazie 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 grazie